In una terra magica, il continente, Geralt combatte contro un mostro chiamato Kikimora. Geralt è un cacciatore di mostri noto come The Witcher, ovvero un umano mutato con abilità speciali. Riesce a tagliare la gamba del mostro, ma la Kikimora lo disarma e lo spinge in acqua. Dopo una lunga lotta, Geralt riesce a recuperare la sua spada e tagliare l'altra gamba per poi trafiggere la Kikimora alla testa, uccidendola. In seguito Geralt si reca nella città di Blaviken ed entra in una taverna, ma tutti gli abitanti del luogo lo discriminano perché è un Witcher. Alcuni uomini si preparano ad attaccarlo, ma Renfri li fa indietreggiare e condivide persino un drink con Geralt. Poi una giovane ragazza lo porta in una torre dicendogli che li può vedere la Kikimora. Geralt nota subito che la porta è magica e la attraversa per scoprire che lo stregone Stregobor ha creato un'illusione che simula un paradiso pieno di belle donne. Stregobor vuole che Geralt uccida Renfri perché è nata con la maledizione del sole nero. Tutte le donne portatrici di questa maledizione sono nate mutate e si prevede che porteranno allo sterminio della razza umana. Per evitare ciò, gli stregoni hanno ucciso queste donne e Renfri è l'unica rimasta. Le mutazioni di Renfri la rendono immune alla magia di Stregobor ed è per questo che vuole Geralt. Lui però rifiuta dicendo che lui caccia solo mostri ed è neutrale rispetto alle beghe della società. Geralt lascia la città e nella foresta viene avvicinato da Renfri che vuole sapere dove si trova Stregobor. La donna spiega che l'assassino da lui inviato l'ha maltrattata e derubata. Per questo l'ha ucciso e ora vuole vendicarsi di Stregobor. Geralt rimane neutrale ma lega con Renfri per il fatto di essere dei mutanti e discriminati e finiscono per fare i dispetti. Quella notte Renfri gli dice di non scappare dalla ragazza nel bosco perché lei è il suo destino. Al mattino Geralt si sveglia e vede che Renfri se n'è andata. Così torna di corsa a Blaviken dove viene circondato dalla banda di Renfri. Un ragazzo gli scaglie una freccia ma Geralt la devia facilmente prima di affrontarli in un combattimento. Grazie alle sue straordinarie capacità Geralt uccide i membri della banda uno per uno. Dopo aver decapitato l'ultimo uomo Geralt sente una ragazza chiedere aiuto e scopre che Renfri la tiene in ostaggio. Geralt cerca di usare un segno magico per farsi obbedire ma la magia non funziona con lei. Dopo aver spinto via la ragazza Renfri attacca Geralt che la mette alle strette contro il muro perché non vuole farle del male. Renfri lo pugnala la gamba e lo costringe a combattere. Scambiando diversi corpi di spada ma solo Renfri causa danni. Alla fine Geralt riesce a metterla nuovamente alle strette ma lei continua a provarci e Geralt non ha altra scelta che ucciderla. Poi arrivano gli abitanti del Lugo e Stregobor. Quando Stregobor dice di voler fare un'autopsia Geralt lo minaccia con la spada. Così Stregobor dice che Geralt ha macellato un gruppo di umani facendo arrabbiare le persone. Tutti iniziano a chiamare Geralt macellaio e a lanciargli pietre così lui deve lasciare la città. Molti anni dopo nel regno di Sintra la regina Calante sta tenendo un banchetto quando un cavaliere le informa che l'impero di Nifgaard sta per invadere. La regina prepara immediatamente il suo esercito e cavalca con il marito Aist verso il campo di battaglia dove incontrano l'esercito di Nifgaard e una feroce battaglia inizia. Mentre all'inizio Sitran oppone una buona resistenza alla fine i Nifgaardiani li sopraffano. Aist pensa che dovrebbero ritirarsi ma Calante rifiuta di consegnare Sintra. Improvvisamente Aist viene colpito da una freccia nell'occhio e muore causando a Calante un esaurimento prima di cercare di inseguire l'ascere. Più tardi al castello di Sitran il consigliere è Mausa che la principessa Sirilla incontrano Calante ferita che si è finalmente ritirata e sta morendo. All'esterno i Nifgaardiani stanno invadendo la città così Mausa che regge una barriera magica intorno al castello. I Nifgaardiani passano tutto il giorno a scagliare i frecci infuocate contro la barriera stancando Mausa che fino a quando non riesce più a reggerla. Il nemico sfonde i cancelli e inizia un'altra furiosa battaglia mentre i Nifgaardiani uccidono i soldati e i cittadini. Calante dice a Sirilla di scappare perché Nifgaard è venuta a prenderla e lei urla facendo tremare l'intera stanza. Calante dice a Sirilla di trovare Geralt perché è il suo destino. Nel frattempo i cavalieri reali danno a tutti una bottiglia di veleno da bere per poter morire con onore invece di essere massacrati. Mentre le persone muugliano in ogni stanza Calante va alla finestra per porre fine a tutto. Nel tunnel segreto del castello Mausa che un cavaliere guidano Sirilla all'uscita solo per vedere arrivare alcuni Nifgaardiani. Mausa che dice a Sirilla di prendere un cavallo ed andarsene con il cavaliere per guadagnare tempo. Ma il duo riesce a cavalcare per pochi minuti prima di essere inseguito da Kair. Il cavaliere viene ucciso rapidamente e Sirilla cade da cavallo dando a Kair la possibilità di catturarla. Mentre escono da Sintra Sirilla vede il suo regno in fiamme e si arrabbia così tanto che inizia ad urlare. Il cavallo si spaventa ed entrambi cadono a terra così Sirilla continua ad urlare facendo venire mal di testa Kair. Ma fa anche crollare un enorme monolite tra di loro. Si apre così un'enorme spaccatura nel terreno che permette a Sirilla di fuggire. Tornando a Geralt, molti anni dopo Blaukiven, lui si prende una pausa in una piccola taverna mentre il bardo Jaskier canta dei mostri. Quando Geralt cerca ad andarsene, un contadino gli si avvicina e lo paga per uccidere il mostro che gli ruba il grano. Jaskier inizia a seguire Geralt perché vuole un'avventura e non si ferma nemmeno quando lui gli dà un pugno per farlo tacere. Quando arrivano in un campo, Geralt viene improvvisamente colpito da un piccolo proiettile di una creatura nascosta tra le piante. Poi Jaskier viene abbattuto da un altro proiettile prima che la creatura esca per colpire Geralt con le sue corna. Si chiama Tork ed è un silvestre stanco degli umani che cercano di avvelenarlo. Geralt attarca Tork e lo prende a pugni, ma subisce un'imboscata alle spalle e viene messo al tappeto. Più tardi Jaskier e Geralt si svegliano legati in una grotta. Un elfo si diverte a colpirle mentre il re degli elfi, Filavandrel, spiega che Tork ha rubato il cibo e le medicine del suo popolo. Jaskier è confuso perché gli elfi vivono in palazzi dorati, quindi Filavandrel deve dirgli che si tratta di una propaganda, perché gli elfi sono stati cacciati dalle loro terre dagli esseri umani e ora vivono nascosti. Geralt fa notare che attaccando gli umani gli elfi non fanno altro che dare a loro ragione, quindi dovrebbero andarsene e ricostruire invece di perdere altri elfi. Vedendo Geralt come un'altra vittima degli umani, Filavandrel decide di lasciare andare lui e Jaskier. Molti anni dopo, in una piccola città, una ragazza gobba di nome Yennefer viene attaccata da due adolescenti per la sua bruttezza. Appare in uno strano luogo e incontra lo stregone Istrid, che la tranquillizza e le spiega che si trova ad Aretusa, il collegio per imparare la magia. Pensando che anche lui voglia attaccarla, Yennefer lo schiaffeggia, ma Istrid le apre un portale per tornare a casa. Più tardi alla fattoria, Yennefer viene maltrattata dal patrigno quando viene interrotto da Tissaia, un insegnante di Aretusa che si offre di comprare Yennefer per pochi spiccioli. La madre protesta, ma il patrigno accetta l'accordo e Yennefer viene presa contro la sua volontà. Ad Aretusa, Yennefer viene rinchiusa in una stanza e ha un crollo rompendo lo specchio. I frammenti le danno un'idea e tenta di suicidarsi. Tuttavia Tissaia le salva la vita e appena si sveglia viene mandata in classe. Tissaia dimostra l'uso della magia. Fringilla prova un incantesimo per far fluttuare un sasso e la sua mano inizia a mutare. Così Tissaia dimostra come pagare il prezzo facendo morire un fiore per far lievitare il sasso. Tutti gli studenti ci provano, ma Yennefer è l'unico a fallire. Sentendosi giù, Yennefer cerca a Istrid e fa amicizia con lui. Passano i giorni e Yennefer continua a fallire nella magia. Nel tempo libero va a trovare Istrid, che la comporta e le insegna a leggere la sua mente. Una notte, Tissaia porta i suoi studenti in una grotta. Il loro compito è quello di imbottigliare un fulmine, ma le prime ragazze falliscono, così come Yennefer. Solo Sabrina ci riesce e Yennefer sarebbe al tal punto da sparare un fulmine che Tissaia deve rindrizzare. Qualche tempo dopo Istrid è data mangiare a Yennefer un fiore speciale che le permette di aprire un portale, facendole rivelare che il suo vero padre è un mezzo-elfo e Istrid la bacia. In seguito si scopre che lavora per Stregobor e gli dice che Yennefer è per un quarto elfo. Più tardi Yennefer sente dei rumori e li segue per scoprire Tissaia che trasforma tre compagni di classe in anguille. Poi Tissaia chiede a Yennefer di spingerle in acqua, che immediatamente illumina la scuola con la magia. Nel futuro, Syriela sente un gruppo di soldati che la cercano e si nasconde appena in tempo. Poi cerca di prendere delle bacche, ma all'improvviso sente un rumore e incontra Dara, che l'avverte che quelle bacche sono velenose. Dara caccia alcuni topi e li condivide con lei, decidendo di restare insieme. Alla fine si imbattono in un campo di profughi sitraniani e Syriela corre verso di esso, ma questa volta Dara non la segue. Syriela incontra un ragazzo che ha delle orecchie da elfo appesa al collo perché ne ha uccise un mucchio. Si scopre che Sintra era la terra degli elfi e che Calanda aveva ordinato al suo popolo di uccidere qualsiasi elfo che avesse cercato di riprendersela. Il ragazzo invita Syriela a stare nella tenda della sua famiglia dove la madre nota che Syriela non ha le scarpe e ordina al servo Nano di darle le sue. Nel cuore della notte i nifgardiani attaccano l'accampamento. Mentre la famiglia afferra le proprie cose per fuggire, la madre schiaffigge il Nano per aver fatto cadere le sue cose e lo insulta, facendo sì che il Nano la pugnali più volte e Syriela viene tirata fuori per poi scoprire che si tratta di Dara. I due corrono insieme attraverso il massacro dell'accampamento, dove vedono l'altro ragazzo morto e i kairi che la sta cercando. I ragazzi corrono nella foresta e quando Dara si toglie il cappello, scopre che lui è un elfo. Qualche tempo dopo Syriela si sveglia sentendo delle strane voci. Segue le voci nella foresta di Brokkilon, ignorando Dara che la chiama per nome. Quando cerca di seguirla viene fermato dalle fricce che provengono dagli alberi e da un mucchio di cadaveri nella zona, rivelando che la gente del posto non ama i visitatori. Nel presenta a Temeria, un giovane ragazzo morente racconta al witcher Remus del mostro che lo ha attaccato. Il padre lo baga per uccidere la creatura, così Remus segue una scia di sangue e i corpi fino alla macelleria. Con cautela si gira con la spada in mano, finché la creatura non aspetta che si volti e lo uccida alle spalle. Le voci sulla caduto giungono alle rocchie di Geralt, che si rega a Temeria per indagare. I lavoratori locali vogliono rivoltarsi contro i re per non aver fatto nulla. Così il cortigiano a Ostrith e i cavalieri reali devono presentarsi per fermarli. Geralt cerca di offrire i suoi servizi, ma Ostrith fa in modo che i suoi uomini lo caccino. Le guardie si addormentano improvvisamente e cadono da cavallo. In quel momento la maga reale Triss si rivela, dicendo che vuole che Geralt salvi la creatura. Più tardi al castello, spiega che gli attacchi provengono dalla cripta della principessa Adda, che secondo le voci sarebbe stata uccisa mentre era incinta. Il mostro potrebbe essere il nascituro maledito di Adda. Inoltre permette a Geralt di esaminare i corpi delle vittime, compreso quello di Remus. Geralt scopre che ai corpi mancano solo il cuore e il fegato, e che l'unico mostro che mangia così è una strega, una femmina maledetta. Questo conferma che la creatura e la principessa non è ancora nata. Il giorno dopo Triss presenta a Geralt a Ray Foltest e il Witcher gli rivela la verità sul mostro. Infastidito a Foltest chiede a tutti di andarsene, ma Geralt aspetta che gli altri siano usciti per chiudere improvvisamente la porta e interrogare Foltest. Si chiede perché Ray non abbia reggita la notizia dell'assassino di sua sorella, e chiede chi sia il padre del bambino. Foltest si rifiuta di rispondere e caccia Geralt dal suo regno. Geralt si intrufola nella crepita con Triss. Dopo aver annusato il letto, Geralt trova un mucchio di lettere all'interno di un carrion. La regina ha scritto ad Adda chiedendole di smettere di fare la cattiva con Foltest, il che conferma che è lui il padre del bambino. Portano le lettere a Ostrith e Geralt dice di aver sentito l'odore di Ostrith sul letto della principessa. Ostrith ammette di essere stato geloso di Adda perché lei aveva preferito il fratello a lui ed era stato lui a lanciare la maledizione, ma la cosa gli si è ritorta contro e Geralt lo punisce per questo. La sera Geralt torna alla crepita e trova Foltest, che lo prega di salvare sua figlia. All'interno Geralt rega Ostrith al letto e lo costringe a condividere l'incantissimo che ha usato, facendogli capire che dovrà combattere la strega fino all'alba per poter spezzare la maledizione, e poi lascia la stanza, permettendo alla strega di trovare Ostrith e di ucciderla in pochi secondi. In seguito la strega cerca Geralt, che deve combatterla senza ucciderla. Lancia una catena per catturarla, ma la strega la spezza facilmente. Geralt la combatte senza usare la spada, spingendola via con un segno magico. Tuttavia la strega lo butta facilmente a terra e inizia a lanciarsi. Con un altro segno magico, Geralt distrugge il pavimento, facendoli cadere in un'area sotterranea, poi pone una barriera magica all'ingresso prima di essere nuovamente attaccato dalla strega. Quando è a terra, la strega cerca di scappare, ma la barriera la blocca. In quel momento inizia a spuntare il sole, così Geralt corre a spingere la strega per impedirle di tornare nella sua cripta. Invece entra lui stesso e la chiude con una barriera magica, lasciando la strega fuori a strellare per la frustrazione. Al mattino Geralt esce finalmente e scopre che la strega è diventata una giovane ragazza, il che significa che la maledizione è stata spezzata. Quando si avvicina, la ragazza gli salta addosso e gli morde il collo perché non sa essere umana. Pochi istanti dopo Geralt si sveglia dopo essere stato guarito da Triss. Lei gli dice che Foltest ha inventato una storia su come Ostrid sia morto uccidendo la strega e che la gente del posto lo considera un eroe. Geralt prende soldi e se ne va. Nel passato, Yennefer ed Istrid stanno vivendo la loro prima volta mentre Yennefer mantiene un'illusione facendo sembrare che ci sia un pubblico che applaude e li guarda. In seguito, Yennefer si incontra con l'incantatore che modificherà il suo corpo per renderlo più bello, perché tutte le maghe devono avere un bel aspetto mentre lavorano come consiglieri reali. Qualche tempo dopo Yennefer viene a sapere che, invece di consigliare il re della sua patria, come previsto, sarà mandata a Nifgaard. E Tessa gli racconta che Stregobor ha detto il resto del consiglio che Yennefer è in parte elfo. Poco dopo Istrid si accorge che Yennefer ha perso l'iniziazione e va a cercarla, solo che Yennefer lo sgrida perché ha capito che l'ha manipolata. Ne nasce una discussione, ma Yennefer si rifiuta di perdonarlo. Mentre viene organizzato un ballo per presentare le nuove maghe e l'oro re, Yennefer va a trovare l'incantatore. Poiché non rimane molto tempo, lui non può preparare le erbe per anestetizzarla, quindi dovrà farlo mentre lei sveglia. Come tutte le maghe, dovrà pagare il prezzo della trasformazione con la sua fertilità. Mentre l'incantatore le rimuove l'utero e inizia a lavorare per sistemare il suo corpo, Yennefer urla di dolore ma non si arrende, lasciando che ogni osso e centimetro di pelle vengano modificati. Pochi istanti dopo Yennefer si presenta alla festa e sconvolge tutti con la sua straordinaria bellezza. Balla subito con il re della sua patria e ottiene la posizione che desidera, mandando in besta a tutti gli altri. Nel presente, Jaskier è in una taverna e ascolta il consigliere che descrive come Geralt abbia perso contro un mostro. Jaskier non gli crede e presto Geralt entra nella taverna coperta di budella. Tutti considerano Geralt un eroe, mentre Jaskier canta la sua canzone sul Witcher, che ha contribuito a ripulire la reputazione di Geralt e a renderlo famoso. In cambio, Jaskier chiede a Geralt di fargli da guardia del corpo per una festa reale in arrivo. Quando arrivano al castello, Mausak riconosce immediatamente Geralt e gli chiede di parlare in privato. Gli spiega che molte persone sono riunite qui per chiedere la mano di Pavetta, la figlia di Calante. Anche se Aist è lì perché è più interessata a Calante stessa. Quando finalmente Calante arriva, la festa comincia. Due signori ubriachi iniziano a discutere di manticore, così Geralt li zettisce con un po' di saccenza. Divertita Calante infida a Geralt sedersi con lei. Mentre cenano, Calante chiede a Geralt se le aiuterà in caso di violenza. Ma Geralt si rifiuta, ricordandole che gli stregoni sono neutrali. Mentre la festa procede, viene improvvisamente interrotto da un uomo che si intrufola tra le guardie per chiedere la mano di Pavetta. Aist gli toglie l'elmo e tutti rimangono scioccati nel vedere che questo Lord Urchion ha l'aspetto di un riccio umanoide. Calante ordina a Geralt di ucciderlo, ma lui si rifiuta, dicendo che non si tratta di un mostro, ma di un cavaliere maledetto. Allora Calante ordina le guardie di prenderlo, ma Urchion non le picchia in pochi secondi per poi annunciare che Pavetta gli appartiene in base alla legge della sorpresa. Un intero esercito di guardie tenta ad attaccarlo di nuovo e lui viene sopraffatto. Quando sta per essere ucciso, Geralt interviene per difenderlo e i due iniziano a combattere insieme. Ben presto gli altri Lord si fanno avanti per prendere il controllo dell'attacco. Tuttavia Aist si schiera dalla parte di Urchion, affermando che la legge della sorpresa deve essere rispettata. Si scatena il caos totale e alla fine Calante afferra una spada per salvare Aist prima di urlare a tutti di fermarsi. Improvvisamente Pavetta corre da Urchion e lo abbraccia, rivelando che i due hanno una relazione segreta. Poi Urchion spiega di aver salvato la vita del re anni fa e come ricompensa ha chiesto la legge della sorpresa che da ciò che una persona ha, ma non sa ancora. Più tardi quel giorno il re scoprì che Calante era incinta di Pavetta. Il re può essere anche morto, ma Calante rivela che lo sapeva. Per questo ha cercato di assumere Geralt in anticipo. Urchion non aveva mai voluto reclamare Pavetta, ma un giorno l'ha incontrata per caso e si sono innamorati. Pavetta decide di voler sposare Urchion ed Aist, Mausak e Geralt dicono a Calante che una promessa deve essere onorata. Messa all'angolo, Calante si avvicina ad Urchion ed estrae un pugnale per ucciderlo. In quel momento Pavetta si mette ad urlare e un impulso magico attraversa la stanza, facendo cadere tutti tranne Urchion. La coppia flutta nel mezzo di un vortice magico di vento, che potrebbe distruggere presto l'edificio. Geralt cerca di rompere il vortice con i suoi segni, ma viene respinto. Poi beve una pozione e con l'aiuto della magia di Mausak, riesce a rompere il vortice e a fermare Pavetta. Dopo alcuni secondi, tutti confermano di stare bene e Calante non ha altra scelta che accettare Urchion come marito di Pavetta. Anche Aist chiede a Calante di sposarla così celebrano un doppio matrimonio. Le coppie celebrano una bella cerimonia e quando Urchion e Pavetta si baciano, Urchion diventa umano perché il vero amore spezza la sua maledizione. Quando Geralt cerca ad andarsene, Urchion insiste per premiarlo. Così Geralt chiede la legge della sorpresa. Improvvisamente Pavetta vomita, rivelando di essere incinta, e che significa che Geralt ha diritto sul nascituro. Tuttavia Geralt non se ne cura e se ne va, ignorando gli avvertimenti di Mausak di non ignorare il destino. Nel passato, anni dopo l'iniziazione, Yennefer sta ascoltando la regina Calis e la sua settima figlia attraverso la campagna. Improvvisamente la carrozza si ferma e si sentono delle urla, prima che diverse spade iniziano a trapassare la carrozza. Yennefer si affaccia e vede tutte le guardie massacrate da un mago assassino che controlla un mostro inquietante. La creatura li insegue, così Yennefer apre un portale e può scappare con Calis e l'ultima guardia è rimasta. Il gruppo appare in un deserto e Yennefer si rende conto che il mago è stato mandato dal re per uccidere Calis, perché lei non era in grado di avere un erede maschio. L'assassino appare alle loro spalle e il mostro uccide immediatamente la guardia, mentre Yennefer apre un altro portale per permettere a lei e a Calis di fuggire. E Yennefer inizia a togliere i gioielli a Calis perché probabilmente il re le ha dato qualcosa per essere rintracciata. Il mago si ripresenta, così Yennefer usa la sua magia per congelare il mostro a mezz'aria, mentre con l'altra mano apre un portale. Una volta che Calis lo attraversa, Yennefer la segue, ma la regina la definisce inutile. Il mago appare di nuovo e questa volta Yennefer, infuriata, scappa da sola. Calis viene immediatamente uccisa dal mago e quando la creatura sta per uccidere anche il bambino, Yennefer compare e lo dicapita. Poi sferra un attacco magico all'assassino per distrarlo, mentre lei afferra il bambino e scappa attraverso un portale, solo che il mago lancia un coltello contro di loro. Pochi secondi dopo Yennefer atterra su una spiaggia e si rende conto che la bambina è morta, così la seppellisce nella sabbia. In seguito Yennefer inizia a vivere fuori dalla rete, viaggiando di città in città per fare i soldi con i suoi poteri. Nel futuro Sirilla continua a seguire le voci e trova una luce brillante prima di ritrovarsi circondata da Drea D. Con loro c'è anche Dara, ma stanno solo curando la sua ferita da una freccia. In privato, Dara fa alcune domande che fanno ammettere a Sirilla di essere la principessa di Sintra, cosa che fa arrabbiare Dara perché la sua famiglia è morta durante il massacro degli Elfi di Calante. Quella notte Sirilla ha un incubo sul massacro di Sintra, sulla gente che muore e sul volto folle di Kair che cerca di seguirla. Quando si sveglia una drea della porta a vedere un antico albero e le fa bere la sua linfa. Sirilla beve un sorso e appare in un deserto dove l'albero le chiede cosa sia. A Sintra, i Nif Gardiani continuano a bruciare tutto, catturano Mausik e trovano il corpo di Calante. Un servo taglia un pezzo della sua pelle per mangiarlo e mentre ha una visione, Fringilla lo uccide. Può leggere le sue viscere e scopre che Sirilla è a Brokylon, così manda Kair a cercarla. Qualche tempo dopo Kair entra nella stanza di un uomo che osserva le parti del corpo di persone in barattoli. Quest'uomo è un Doppler, cioè può assumere le sembianze di qualsiasi persona e Kair chiede i suoi servizi. Lo porta a vedere Mausak che cerca di scappare solo perché il Doppler gli salta addosso e copia il suo aspetto prima di ucciderlo. Nel presente alcuni anni dopo la festa di Sintran, Jasker trova Geralt che pesca un gin per poter desiderare una cura per la sua insonnia. Quando finalmente trova una bottiglia, Jasker si batte con lui per averla e la bottiglia si rompe accidentalmente. Geralt desidera che Jasker stia zitto e gli appare un taglio sul braccio mentre un forte vento inizia a soffiare intorno a loro. Indovinando che si tratta del gin, Jasker esprime due stupidi desideri, per poi essere improvvisamente spinto dalla magia. Geralt usa il suo segno per mandare via il gin e quando si gira trova Jasker che vomita sangue con un tumore alla gola. Geralt porta Jasker all'accampamento più vicino e chiede un guaritore. L'uomo ispeziona il tumore e dà a Jasker una pozione che gli farà guadagnare qualche ora, ma avranno bisogno di un mago potente per curarlo. A quanto pare c'è uno nella casa del sindaco. Geralt si reca alla casa del sindaco e abbatte la guardia per entrare. Il sindaco appare nudo davanti a loro e si addormenta su una sedia. Così i due si addentrano all'interno dove scoprono che Yennefer sta dando una festa sconcia, il che significa che le loro linee temporali si sono finalmente scontrate. Quando viene a sapere del gin, accetti immediatamente ad aiutarlo. Jasker viene rapidamente guarito, ma rimarrà incosciente per alcune ore. Geralt nota che Yennefer sta preparando un rituale per carturare il gin e cerca di metterla in guardia. Tuttavia Yennefer lo bacia per prendere il controllo della sua mente. Quando Geralt si sveglia, si ritrova in una cella con il guaritore, che gli spiega che Geralt si è scatenato in città sotto il controllo di Yennefer. Il guaritore ha cercato di impedirgli di attaccare i cittadini, ma è stato arrestato anche lui. Nel frattempo Jasker si sveglia e va nel panico quando vede Yennefer prepararsi per un rituale. Lo mette alle strette contro il muro e lo minaccia affinché non esprime un desiderio. Nello stesso momento la guardia del sindaco appare nella cella e inizia a picchiare Geralt, che desidera che questo ragazzo scoppi. Improvvisamente la testa della guardia esplode e un secondo taglio appare sul braccio di Geralt, rivelando che è lui il vero padrone del gin. Il desiderio di Geralt fa apparire il gin davanti a Yennefer, così Jasker ne approfitta per scappare. Si imbatte in Geralt e gli racconta del rituale, così Geralt si precipita all'interno. Yennefer è in ginocchio e fatica a controllare l'enorme potere del gin, ma rifiuta l'aiuto di Geralt. Non avendo altra scelta, Geralt esprime il suo ultimo desiderio, chiedendo che la sua vita e quella di Yennefer siano collegate. Poiché il gin non può fare del male a Yennefer senza fare del male al suo padrone, scompare con una grande onda d'urto che fa crollare metà dell'edificio. Quando Yennefer e Geralt si svegliano, iniziano a litigare, per poi iniziare a fare cose sporche mentre Jasker guarda. Nel futuro Cirilla è uscita dall'illusione dell'albero e vede una driade con i capi degli esploratori nifgardiani. Si preparano con i loro archi, ma a presentarsi è il falso Mausak che chiede di Cirilla. La ragazza è felice di vedere un volto familiare e se ne va con lui e Dara. Mentre il trio si avvia sulla strada di ritorno, Dara fa molte domande, trovando Mausak sospettoso. Quando Mausak risponde in modo errato, Cirilla finalmente capisce che non è lui. Furioso il Doppler cerca di trascinarla con la forza, così Dara lo attacca. Il coltello d'argento di Dara ferisce il Doppler, che lo disarma rapidamente e cerca di soffocarlo. Cirilla raccoglie il coltello e ricomincia a ferire il Doppler, facendogli mostrare il suo vero volto. Poi Dara riprende il coltello e spinge il Doppler contro un albero, facendogli delle domande invece di ucciderlo. Cirilla afferra il coltello per farlo lei stessa, dando al Doppler la possibilità di abbattere Dara. Terrorizzata Cirilla scappa solo per essere catturata dal Doppler sotto forma di un soldato nifgardiano. Pochi istanti dopo Cirilla si ritrova legata nella stanza di una locanda dove incontra Cahir. Tuttavia non appena Cahir si gira, Cirilla cambia forma per copiare quella di Cahir, perché in realtà è il Doppler. Arrabbiato con Cahir per non avergli detto quanto Cirilla fosse pericolosa. Si scatena una lotta e Cahir ha difficoltà a combattere il Doppler perché sta copiando le sue abilità. Cahir taglia il volto del Doppler con una bottiglia rotta, costringendola a scappare. Quando anche Cahir esce, vede un gruppo di persone del posto e non riesce ad indovinare da chi possa essere travestito il Doppler. Così si arrende. Nel frattempo Cirilla viene legata ad un albero della foresta e trovata da Dara, che la libera immediatamente. La rimprovera per aver lasciato la sicurezza di Brokylon, dicendo che porta solo terrore e morte, proprio come Calante, per poi abbandonarla. Cirilla viaggia da sola e finisce in una piccola città, dove ruba un cavallo per viaggiare più velocemente. Quella notte si accampa quando viene improvvisamente avvicinata da alcuni ragazzi. Si rende conto che sono persone che conosceva Sintra, ma non sono qui come amici, perché vogliono catturarla e portarla a Nifgaard per la ricompensa. Cirilla è terrorizzata e i suoi poteri prendono il controllo di lei. Con una voce inquietante condivide una profezia sulla fine del mondo e urla. Nel presente, alcuni anni dopo l'incidente del Jinn, Galat e Jasker incontrano Borch e le sue guardie del corpo. Davanti ad un drink, Borch spiega che un drago è apparso nel regno e che l'agente del posto ha cercato di attaccarlo per prendere il suo oro. Per vendicarsi, il drago ha distrutto metà della campagna. Il re ha messo una taglia sulla testa del drago e molte squadre si stanno preparando a dargli la caccia. Borch vuole Gerard nella sua squadra, ma Gerard rifiuta, dicendo che i draghi sono creature intelligenti e che lui non li uccide. Tuttavia cambia subito idea quando scopre che Yennefer sta arrivando con un cavaliere. Mentre tutte le squadre salgono sulla montagna, Jasker trova un mostro tra i cespugli e va nel panico. Gerard spiega che si tratta di un mostro pacifico che probabilmente ha solo fame. Tuttavia il cavaliere si fa avanti e uccide ferocemente la povera creatura. Più tardi quando il gruppo si ferma per riposare, il cavaliere arrustisce il mostro e se lo mangia. Ma si sente male e cura a fare i suoi bisogni. La mattina dopo il gruppo scopre che il cavaliere è stato ucciso mentre faceva la cacca. Yennefer è furiosa perché ha perso il suo sponsor e Gerard le chiede perché vuole uccidere il drago. Lei spiega che il cuore di un drago può curare l'infertilità, ma Gerard si limita a ridere di lei dicendo che è una leggenda. Poi la squadra di Nani annuncia di non fidarsi della squadra di mercenari, ritenendo che abbia ucciso il cavaliere, quindi prenderanno una scorciatoia. La squadra di Gerard e Yennefer va con loro, scoprendo che la scorciatoia è un sentiero molto piccolo intorno alla montagna fatto per Nani. Il loro peso fa rompere il legno e Borch e le sue guardie cadono, riuscendo ad aggrapparsi la catena all'ultimo secondo. Gerard si aggrappa la catena per salvarli, ma il legno si spezza anche sotto di lui. Non volendo altri morti, Borch lascia la presa e le sue guardie del corpo lo seguono rapidamente. Qualche istante dopo il gruppo si ferma per accamparsi e Geralt va a trovare Yennefer nella sua tenda magica, dove finiscono per fare i dispetti per il resto della notte. La mattina dopo Yennefer e Geralt scoprono che i Nani sono partiti senza di loro e li inseguono. Quando li raggiunge, Yennefer usa la magia per farli congelare. Lei scopre che il drago è già morto per proteggere il suo uovo. Yennefer tette ad avvicinarsi a lei, ma trova la strada sbarrata dalle guardie del corpo di Borch, che in realtà sono vive. Le donne stanno per combattere, ma Geralt le interrompe, seguito da un secondo drago. Si scopre che questo è il vero corpo di Borch, che non ha mai assunto Geralt per uccidere sua moglie, ma voleva che il Witcher proteggesse l'uovo dalle altre squadre. In quel momento arrivano i mercenari, così Yennefer e Geralt aiutano le guardie del corpo a proteggere l'uovo. Segue una lotta durante la quale Geralt e Yennefer si baciano mentre attaccano insieme i nemici, ma purtroppo continuano ad arrivarne altri. Yennefer e Geralt combattono i nemici all'esterno, mentre le guardie del corpo combattono quelli che riescono ad entrare. Un uomo si aggira furtivamente e quasi raggiunge l'uovo, così Borch sputa fuoco per ucciderlo. All'esterno un mercenario getta della terra negli occhi di Geralt per distrarlo, ma Geralt afferra la sua arma e permette a Yennefer di ucciderlo. Pochi istanti dopo i nani si liberano finalmente dall'incantissimo di Yennefer. Tornata alla sua forma umana, Borch è da loro un mucchio di denti di drago, che potranno usare per dimostrare a re di aver ucciso il drago. Dopo che i nani se ne sono andati, Borch rivela a Yennefer qual era il desiderio di Geralt. Yennefer sarebbe perché ora non sa se quello che sentono per l'altro è reale, e dopo una discussione lo lascia e se ne va. Molti anni dopo, Geralt vede l'esercito annificardiano marciare verso Sintra, il che significa che finalmente si trova nel tempo di Sirilla. Anche lui si reca a Sintra perché è preoccupato per il suo destino, così Mausaki gli spiega che Sirilla sta bene anche se i suoi genitori sono morti anni fa. Improvvisamente Geralt vede due uomini nel tunnel, capendo che Calant ha mandato dei sicari per ucciderlo se si fosse presentato a Sintra. Geralt prende il nostaggio Mausak per costringere gli otto assassini ad uscire dal loro nascondiglio. Per evitare lo scontro, Mausak apre un portale per teletrasportarsi con Geralt. Geralt spiega di essere venuto a portare via Sirilla per proteggerla, promettendo di riportarla quando la battaglia con Yvgard sarà finita. Calant accetta con reluttanza e gli presenta una finta principessa, dicendo che sarà pronta in poche ore. Nell'attesa, Geralt vede un vento misterioso aprire una porta ed esce all'esterno, dove vede la vera Sirilla giocare con alcuni bambini e farsi chiamare Altezza. Capendo di essere stato ingannato, Geralt si precipita ad affrontare Calante, che ignora i suoi avvertimenti e ordina ad Aist di scortare Geralt fuori dal regno. Mentre escono, Aist si ferma presso un arco, dove i due cancelli cadono improvvisamente per catturare Geralt. Presto la battaglia di Sintra si svolge in città, come già mostrato. Quando la guardia passa di lì, Geralt gli ruba le chiavi per fuggire. Fuori Geralt inizia a combattere contro i Nifgaardiani, uccidendone alcuni prima di nascondersi per guardare i soldati che assaltano il castello e Calante che muore. Geralt decide di introfolarsi nel castello per trovare Sirilla, ma dopo aver ucciso altri soldati, scopre che è già sparita. Nel frattempo Yennefer viene avvicinata dallo stregone Vilgefortz, che la convince a tornare ad Aretusa. Tutti gli stregoni si riuniscono d'urgenza per discutere dell'attacco di Nifgaard a Sintra. Una discussione sull'aiutare o meno viene interrotta da Enfringilla, che lavora per Nifgaard e chiede a loro di non intromettersi. Gli Nifgaard e Tissaia vogliono aiutare Sintra, ma il gruppo vota e si decide di non intervenire. In segreto, Vilgefortz raduna coloro che hanno votato per sì. Gli stregoni partono su una barca per raggiungere un torrone sulla colina soldata, il luogo che Nifgaard cercherà di attraversare per proseguire verso nord. Qui ci sono molti rifugiati, 15 stregoni devono proteggere anche loro. Entrambi i gruppi iniziano a lavorare insieme per preparare un mucchio di trappole ed armi, come delle bottiglie incantate. Yennefer moltiplica le piume in modo da poter creare più frecce. Qualche ora dopo, tutti dormono, ma Yennefer si sveglia appena in tempo per vedere una palla di fuoco che si dirige verso di loro e la devia con il suo potere. Mentre avverte gli altri stregoni, Fringilla ordina di lanciare un'altra palla di fuoco e la maga muore come la prima perché la magia del fuoco è proibita. La palla di fuoco viene nuovamente deviata, così Fringilla crea una scatola e la consegna ad un altro stregone. Al mattino, lo stregone attraversa la foresta diffondendo una fitta nebbia attraverso la quale marciano i soldati. Mentre tutti si preparano nella fortezza, Triss esce fuori e fa crescere un mucchio di funghi nella foresta. Quando i soldati li calpestano, si sprigiona un gas pericoloso che li uccide tutti. Un altro gruppo di soldati si avvicina da un'altra direzione e una maga usa la sua magia per spezzare a loro il collo. Un terzo gruppo sta arrivando, quindi Sabrina e i suoi archi lanciano le bottiglie incantate e le colpiscono con le frecce, facendo piovere su Unif Gardiani un mucchio di esplosioni. Dopo che l'ultimo gruppo inizia a marciare, Vilgefortz si teletrasporta nell'accampamento Unif Gardiano e inizia a combattere i pochi soldati rimasti. Kair lo trova e inizia un duello durante il quale Kair continua a disarmare Vilgefortz e lui continua a richiamare la sua spada con la magia. Alla fine esaurisce le energie, permettendo a Kair di buttarlo giù dalla collina. Successivamente Fringilla apre un portale che si collega all'ingresso della fortezza e i suoi arcieri vi scagliano frecce per uccidere un gruppo di persone. Lo stregone Unif Gardiano approfitta della distruzione per intrufolarsi all'interno e far cadere la scatola mentre muore. Tissaia va ad affrontare Fringilla, che le lancia una polvere per bloccare i suoi poteri. Poi Fringilla attiva la scatola, che rilascia un gruppo di parassiti. Ben presto Unif Gardiani circondano la fortezza e uccidono tutti gli stregoni all'esterno. Trissi si precipita all'ingresso e crea una barriera di liane che blocca i nemici. Un soldato riesce a passare attraverso le viti e brucia il petto di Triss, bruciando anche le viti. Nel frattempo i vermi prendono il controllo di Sabrina ed alcuni bambini, che prendono alcune bottiglie incantate. Sabrina sorprende Yennefer e la pugnala prima che i ragazzi la facciano cadere le bottiglie, provocando un'esplosione che causa decine di morti. Anche la torre cade e Yennefer e Sabrina vengono scaraventate a terra, dove Sabrina svine. Yennefer vede tutta la morte e la distruzione che la circonda ed esce fuori per iniziare a uccidere i soldati a destra e manca. Nella fortezza, Vilgefortz si sveglia e trova un mago ferito che ha ucciso un gruppo di Nifigardiani. Il poveretto chiede aiuto, ma Vilgefortz lo uccide e ignora Yennefer quando lei cerca di contattarlo. I soldati Nifigardiani continuano ad arrivare, così Yennefer assorba tutte le fiamme della fortezza e le rilascia sulla collina, incendiando l'intera foresta ma proteggendo Tissaia. Le enormi fiamme uccidono tutti i Nifigardiani, vincendo la battaglia. Di frattempo Geralt lascia Sintra e trova il campo di profughi distrutto, dove un uomo sta cercando di dare una degna sepoltura ai caduti. Improvvisamente l'uomo viene attaccato dai necrofagi, ossia mostri che infestano i loghi con molti cadaveri. Geralt lo salva rapidamente e gli dice di scappare. I mostri sopraffano Geralt e gli mordono persino una gamba, ma lui resiste e li uccide uno ad uno finché non rimangono più mostri. A quel punto Geralt crolla e si sveglia scoprendo che l'uomo è tornato a prenderlo sul suo carro. A causa della ferita, Geralt continua ad avere delle allucinazioni della sua infanzia e di sua madre, ma anche di Borch che gli dice che non è reale. Geralt beve un po' della sua pozione e getta il resto sulla ferita, solo per ricominciare ad avere allucinazioni. Ricorda che sua madre lo ha abbandonato in mezzo alla strada per essere preso dagli stregoni. Qualche ora dopo, Geralt si sveglia e vede una donna che lo cura. All'inizio pensa che si tratti di Renfri o Yennefer, ma poi scopre che in realtà è sua madre. La rimprovera per averlo consegnato agli stregoni, che hanno fatto molti esperimenti dolorosi su di lui per conferirgli i poteri, ma la madre gli dice di andare avanti. Nel frattempo, Cirilla si sveglia e scopre che la sua magia ha ucciso il suo cavallo e tutti gli uomini. Una donna la trova e la porta a casa, promettendole che vuole solo aiutarla. Quella notte Cirilla sogna Geralt, che chiama Yennefer, e ricordando che è il suo destino, decide di partire per trovarlo. Presto arriva il carro, perché questa è anche la casa del salvatore di Geralt. Sentendo la moglie parlare di una ragazza nel bosco, Geralt, ricordando le parole di Renfri, salta giù dal carro e corre nella foresta. Lì Cirilla e Geralt si incontrano finalmente e si abbracciano mentre i loro destini si uniscono. Ecco il riassunto di tutta la prima stagione. Se desidera anche il riassunto della seconda stagione, commenta questo video, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti il prossimo video. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.